eccoci qui vado subito al punto sono giacomo biraghi mi occupo tra le altre cose di città la mia passione da qualche annetto ho fatto un po di cosine soprattutto a milano da il piano urbanistico nel 2007 quando insomma abbiamo immaginato i grattacieli nuovi all'expo l'evento che ha un po sconvolto la città nel 2015 positivamente di cui sono stato responsabile delle pubbliche relazioni digitali e poi un po di lavori sul turismo sulle smart city da yes milano all'associazione milano smart city da explora a in lombardia un po di passaporti legati alle destinazioni turistiche e poi tanta attività legata all'innovazione delle città fino arrivare al festival sulle città il festival utopian hours che insomma ogni anno da cinque anni a torino a ottobre invita un po tutti i principali pensatori sulle città da tutto il mondo insomma si è consolidato un po come il festival sulle città passando da trend urbani sul futuro a visite di esploratori urbani da tutto il mondo fino ai più importanti speaker mondiali ecco insomma questo un po sono io tra innovazione città tra milano e il futuro delle aruba grazie a tutti